Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, ci addentriamo in una nuova avventura digitale. Proviamo a chiedere il bonus vista, quel bonus che ti permette di avere uno sconto sugli occhiali o sulle lenti a contatto ai fini della vista. Allora, si può fare una volta sola, quindi lo facciamo insieme, non è che posso provare e poi raccontarti come si fa. Lo scopriamo insieme in tempo reale. Così, tanto per non saperne leggere né scrivere, mi sono preparato il modello ISE della persona che deve richiedere il bonus, mi sono preparato il codice fiscale e tessera sanitaria della persona che deve richiedere il bonus e mi sono accertato che la persona abbia sul suo smartphone l'app IO e sia aggiornata e abbia potuto entrare, eccetera. Non so se servirà tutto questo, ma così prima di cominciare e mi sono preparato tutte queste cose, nonché la possibilità di entrare a nome di quella persona nell'identità digitale, quindi ho tutti gli strumenti per fare questo. Adesso andiamo a vedere che cosa succede. Quindi parto, aprendo il mio browser internet, eccolo qua, si è aperto sull'altra schermata e cerco quello che mi interessa. Quindi bonus vista. Bonus vista. C'è anche 2023. Siamo nel 2023. Vediamo se c'è ancora. Allora, bonus vista. Perfetto. Premo. So già che c'è effettivamente. Ho dato già un'oletta a questa pagina e ti dice che puoi richiedere il bonus vista a partire dal 5 maggio alle ore 12. Quindi siamo dentro perché al momento è il 22 di giugno. Se per caso tu l'acquisto l'hai già fatto in precedenza, puoi comunque chiedere un rimborso e sono 50 euro da quello che ho capito di bonus vista. Ok. Se hai tutti quanti i requisiti. Benissimo. Vediamo come si fa a richiederlo. Allora, intanto, il sito internet per vedere questa cosa è bonusvista.it Tutto attaccato. È un sito internet del Ministero della Salute da quello che vediamo e quindi direi che ci siamo. Allora, come si farà? Direi che dobbiamo entrare. Siamo dei beneficiari. Nel senso che siamo la persona che dovrebbe avere questo bonus vista. Quindi entro nell'area riservata. Vediamo, attenzione, nella richiesta di rimborso. Ok, non mi interessa perché la persona deve ancora comprare gli occhiali. Accedi. Ah, c'era scritto quello che serviva. Quindi se torno indietro un attimo, posso vedere che servirà la dichiarazione sostitutiva unica DSU riferita a un'ISE superiore non superiore a 10.000 euro, SPI del livello 2 o superiore, oppure carta di identità elettronica 3.0 o carta nazionale dei servizi CNS, quindi la tessera sanitaria. gli estremi della fattura o della documentazione commerciale in caso di rimborso. L'emissione del bonus vista è gratuita. Bene, accediamo. Vediamo, carta di identità elettronica. Entra con CIE. Vediamo cosa succede. Ok, c'è da aprire l'app in questione e da inquadrare il codice QR. Quindi vado a cercare sul telefono la CIE. Perfetto. Entra con QR code e inquadro il codice QR. Inquadrato, impronta digitale. Siamo a posto. E prosegui. Ok, qui vediamo nome e cognome, codice fiscale. Mi chiedono se voglio inserire l'indirizzo email del beneficiario, quindi dati beneficiario. Eh, sì. Lo inserisco. Lo inserisce da solo tutto in maiuscolo. Quindi va bene. Mi sono accertato di non avere accidentalmente le maiuscole inserite. Non è così. Scrivo correttamente l'indirizzo email. Quindi. E può essere importante perché magari lo mandano lì, ok? Per facilitare le cose. È scritto correttamente. Accetto i campi obbligatori. Dichiaro di aver preso visione di accettare le condizioni d'uso. Dichiaro di aver preso visione e di accettare le info privacy. Se le vuoi leggere, ovviamente ci premi sopra e ti appariranno. Continua. Allora, quindi. Nome, codice fiscale, indirizzo email, genera buono, richiede il buono. Il buono generato può essere utilizzato solo per un acquisto futuro. Il rimborso può essere richiesto. Quindi invece del rimborso chiedo genera il buono. Però, vediamo un po'. Allora, ecco qua. Mi dicevo. Se, ad esempio, a richiedere il buono è un capofamiglia, tra virgolette, nel senso che l'ISE è della famiglia. Come si fa a sapere qual è il componente della famiglia? Magari è un minorenne. E quindi come si fa a dare il buono al minorenne? Perché è proprio nominativo. Se fai gli occhiali per tuo figlio e devi scalare i 50 euro, quei 50 euro sono per gli occhiali di tuo figlio. Se poi porti gli occhiali anche tu e li vuoi scalare anche tu, devi rifare la procedura e avere anche tu un buono. Però bisogna indicare qual è il figlio, o qual è il codice fiscale. Quindi, compila il buono a favore di un componente del nucleo familiare. Quindi, sottoscritto, nome, cognome, codice fiscale, consapevole delle sanzioni, eccetera, eccetera. Codice fiscale del beneficiario. Quindi, quando dicevamo ci serviva il codice fiscale, ci serviva proprio. Quindi, vado a scriverlo. Lo scrivo in minuscolo, ma viene scritto direttamente in maiuscolo. Quindi, io scrivo così com'è. Vediamo. Cerchiamo di scriverlo giusto, ovviamente. Ok, ci siamo. Continua. Allora, benissimo. Quindi, nome e cognome del beneficiario. Quindi, possiamo verificare che sia tutto giusto. Codice fiscale del beneficiario. Ci siamo. Invia richiesta. Premo. Allora. Perfetto. Lista, buoni attivi. Eccolo qua, con il nome. E vedo direttamente il buono con il codice fiscale e quant'altro. Allora, stampo in PDF. Quindi, faccio stampa in PDF. Così che mi arriva sul computer, in download, un foglio, che sarà questo che mi hanno mostrato. Eccolo qua. Ministero della Salute. Bonus vista. Dettaglio del buono. Codice data inserimento, data scadenza. Scade il 22 luglio 2023. Quindi, ho un mese di tempo. Quindi, non è che dici, vabbè, dai, faccio i buoni per tutta la famiglia che magari porta gli occhiali. Non si sa mai che servano degli occhiali. No, ragazzi. Lo fai e poi lo usi. Importo del buono 50 euro. Quindi, questo foglio, io me lo posso stampare e portarlo in sede di pagamento degli occhiali laddove è accettato il buono. Torno indietro per vedere cos'altro devo fare. Niente. Non premo cancella perché non voglio cancellarlo. Non devo richiedere un rimborso. Qui sotto c'è richiedi rimborso. Comunque, quindi, c'è quella procedura lì. Non posso farla perché non ho un rimborso da chiedere a nome della persona. E quindi, basta. È stato più facile del previsto. L'app io non mi è servita. Il modello ISE o la DSU non mi è servita. Però, attenzione, è stato richiesto. Quindi, effettivamente, il modello ISE esiste. La DSU è stata presentata ancora a gennaio a suo tempo. E quindi, evidentemente, il Ministero della Salute con la mia identità digitale è risalito a quelle informazioni che comunque risiedono sempre in capo allo Stato. Quindi, hanno collegato i dati. hanno visto che la DSU c'era, che il modello ISE c'era, che gli importi di quei documenti sono congrui col buono. E quindi, siamo a posto. E ho ricevuto il buono. È stato facile? Direi che è stato facile, ragazzi. Se non avessi parlato, ci avrei messo forse un minuto, forse due, magari, leggendo un po' tutto. Però ce l'abbiamo fatta. Ok. Vado sul nome utente e dico esci. A questo punto sono uscito dal portale del Ministero della Salute di questa pagina e sono a posto. Ho finito tutto. Il mio buono è qui, sul mio computer, in download. Allora, qua chiudo tutto. Vado in download del mio computer. Lo cerco. Dov'è? Dov'è? Download. Eccolo qua. Apro il PDF e poi devo semplicemente stamparlo. Siamo a posto. Mi auguro che questo video ti possa essere utile. Sotto qui c'è il pollice in su per dire mi piace. E iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto. E se ti va, abbonati al canale Associazione Culturale Maggiolina. In questo modo ci sostieni, ma soprattutto vedi i due video settimanali, due nuovi video settimanali, riservati agli abbonati. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!